Un atto d'amore verso la sua terra, quello di Cristian Brucale, percussionista, cantante. Domani, giovedì 11 luglio alle 18.30, presso la torre Vito Bianchi di Marina di Vietri sul mare, in occasione dell'inaugurazione della mostra Vietri-Cromie, presenterà il suo ultimo brano dal titolo Vietri, un omaggio musicale alla sua terra nativa. Uno scrigno di bellezza unico, il borgo diviso in sei frazioni, che ha ispirato i grandi della ceramica, come Gabbone, Comalisca, solo per fare qualche nome, che ha fatto da Musa per Brucale, che già nel 2017, dopo l'incontro con Gianfranco Calienzo, produttore musicista, leader della band Giardino dei Semplici, fece parlare di sei conviente terre, dove contaminazioni sonore uniscono il pop alle antiche tradizioni musicali campane. Vietri, arrangiamenti del maestro Gianfranco Caliendo con il maestro Martino Brucale, fratello di Cristian, per la parte solista del sax soprano, sarà in Vienti Terra 2, che sarà pubblicato un autunno. Tra le altre tracce, ci sarà un brano dedicato ad Enzo, abitabile dal titolo Brothers, e Guardam Giel, brano dedicato al monaco benedettino esercisto a Don Gennaro lo Schiavo, scomparso il 10 marzo del 2021. L'album conterrà anche Terra e Tarantella, tratti dall'omonimo musical di Cristian, in cui è stato protagonista, insieme alla cantante, Flora Contena.